salve a tutte e tutti eccoci qua con il classicissimo del giovedì il video in cui il darione ovvero la mia persona vi racconta quali sono i migliori giocatori da utilizzare nella cap 2 40 della gv in corso quindi chi si mette in campo ricordiamoci che campionati stanno per andare nella pausa non tutti ci sono alcuni che giocano premier league la scottis la stessa serie a quindi insomma vediamo un attimo e poi ci sarà la pausa lunga invece come la bund insomma che poi rientra verso la fine di gennaio ma insomma andiamo subito a vedere oggi video velocissimo ovviamente se siete interessati a ancora i video qui sul canale cliccate sulla campagna così verrete aggiornati sempre costantemente su tutti i video che escono qua sopra insomma nei giorni scorsi ho fatto uscire un po di video un ciclo il primo proprio quello quale sarà il futuro di solare con alcune mie idee non tutte quelle con in testa ovviamente ma ne avremo modo di parlare e nei prossimi video nelle prossime settimane e vi ricordo anche di vedervi l'intervista momo di sorare in esclusiva per l'italia la prima volta che un dipendente diretto di sorare parla con la community italiana insomma stelletta al petto per il darione su questa cosa e poi che dire c'è tanto sentimento negativo su sorare in questo periodo lo sappiamo io ribadisco che ho sempre avuto la stessa diciamo linea di pensiero quando c'è stato da dire che le cose non funzionavano l'ho detto in maniera molto chiara sui miei social su su sulle live che facevo all'epoca e quindi non ho alcuna diciamo così doppia faccia da utilizzare sono sempre questo l'ho sempre detto continuerò a farlo e perché è fondamentale farlo nel senso alla fine se a una persona interessa continuare a stare sulla piattaforma fa bene a starci se invece non si sente più a suo agio invece secondo me di sparare a zero insomma sulla stessa piattaforma magari quella piattaforma non è più per lui poi ci mancherebbe altro secondo me in situazioni come queste che ci sono di mezzo tanti soldi la questione anche che probabilmente ci sono anche dei momenti umorali diversi da parte di voi manager anche da parte di me stesso ci sono stati dei momenti in cui anch'io con grande onestà ma l'ho detto anche in live ho pensato seriamente di lasciare sorare e non ho potuto farlo a volte proprio perché l'investimento che ho fatto era troppo elevato e non era conveniente abbandonarlo quindi l'importante secondo me è misurarsi la palla con le proprie esigenze e i propri bisogni senza stare a ascoltare troppi consigli degli altri cioè ognuno deve guardare se stesso che cosa desidera e poi in base a quello decidere come procedere rispetto a sorare ma questo in realtà rispetto a tante cose nella vita insomma ora rimanendo a sorare senza voler fare il guru che non mi interessa la questione è proprio quella cioè se non vi sentite più a vostro agio con sorare secondo me è meglio se abbandonati se invece credete nel progetto c'è da tenere duro ieri giulia ha fatto uscire una bellissima intervista che trovate su twitter insomma con questo canale in francese in francese ma insomma poco importa potete mettere i sottotitoli tante su youtube e insomma comunque ha detto che ci saranno un sacco di unità del 2024 io vi dico come sempre che sono nel gruppo con i content creator che sorare ha scelto quindi se avete qualche proposta qualche idea scrivetela qua oppure scrivetela nel gruppo telegram molto attivo che ho e dove appunto c'è io ci sono sempre tutti i giorni tra l'altro da sempre non è che ho avuto momenti in cui non ci sono stato mi trovate lì nel bene e nel male ovviamente ricordatevi anche che fino a gennaio c'è la promo del patreon informazioni esclusive per l'italia su asia e anche cominceranno uscire anche quelle sulla bundes quelle sulla scottice sono già cominciate ad uscire detto questo andiamoci a vedere i giocatori per questa caped allora iniziamo dalla serie a propongo al volo lorenzo montipò portiere del verona gioca contro il cagliari vedete tra l'altro a 156 di opponent score l 15 42 quindi permette di inserire diciamo tanti calcio tanti altri calciatori magari di alto livello è evidente andiamoci a vedere le ultime 15 partite che il verona non stia andando bene e che lo stesso montipò non riesca a fare una clean sheet da tempo immemorabile da ottobre quindi questo lo dovete tenere di conto però è sempre un ottimo portiere tant'è vero che fa comunque una di 9 9 e mezzo il prezzo in limited ultima vendita andiamocela a vedere è di 22 euro e 56 quindi più o meno siamo lì col flow che è 23 93 mentre la rara andiamo a vedere 349 euro e 380 euro io sconsiglio i portieri italiani in rara perché costano secondo me troppo rispetto alle loro prestazioni insomma ce ne sono di meglio però il limited non è affatto male per quanto riguarda quindi un'altra proposta più economica decisamente infatti vedete qua c'è stato un picco clamoroso andè su all'ivural del siva sport che giocano contro list album sport quindi partita diciamo plausibile lui viene da prestazioni orripilanti e quindi insomma a un costo decisamente contenuto lo vedete a 14 euro e 20 in floor ultima vendita se non vado errato 14 e 16 è ovviamente salito andava probabilmente preso qua ma insomma male non è mentre in rara lo vedete ultima vedete un accrocchio perché tutti se lo sono andati a comprare 198 euro 228 di floor su me si può prendere anche a meno veniamo ovviamente alle proposte scozzesi che come sapete noi amiamo di più e che vengono fatte in collaborazione con il grandissimo marec uno dei ragazzi più importanti della mia community e ci sono i suoi social qui sotto c'è il suo twitter follow atro è veramente un grandissimo anche umanamente andiamo a vedere zander clark che ha un l 15 spaziale per essere inserito il cap perché solo 44 ma l 5 favoloso come vi dico sempre questo significa che sostanzialmente il ragazzo sta giocando molto bene le ultime partite e quindi insomma tenderà a salire di cap e ma gli ci vorrà un po andate a vedere insomma ecco questa l 15 c'è un sacco di brutti voti finché non perde questo 14 secondo me è ottimo gioca contro il san mire quindi partita comunque abbordabile per i suoi arts andiamoci a vedere l'ultima vendita che è questa è di 21 euro sta a 22 euro e 74 quindi ci sta ovviamente i prezzi scotte sono leggermente saliti perché la scozia gioca per tutto il periodo natalizio è evidente questo ma noi qui sul canale ne parliamo da messi di scozia quindi se qualcuno ci ha seguito li ha già comprati quelli che suggeriamo comunque zander clark in rara 3 15 il flora 3 31 ovviamente non può mancare il mio portiere che è un fenomeno assoluto ovvero il grandissimo will dennis l 15 46 andiamo a vedere veramente in prestito ricordo il nostro will dennis si è parlato anche di voci per quello un po salito di prezzo che quest'estate lo vorrebbero al celtic o ai rangers andiamo a vedere poi se sarà vero o meno comunque vedete a parte questo 12 prestazioni incredibili sta andando anche molto bene il kilmar no che a questo va detto però ha già fatto cinque cresciti in 15 partite insomma dove vedete la strec c'è il san joston il semmire il dandy poi è vero che c'è rangers però insomma prima della pausa ecco insomma tre partite dove può fare discretamente discretamente bene andiamo a vedere il prezzo del nostro buon will 39 euro e 26 non è e sicuramente economico costa 40 euro e la rara l'andati l'andiamo a vedere eccolo qua ultima vendita a 323 euro poi qualcuno ovviamente esagerato però insomma sui 300 euro vi assicurato un portiere che è anche under 23 quindi con cui potete giocare per tempo immemorabile o comunque eventualmente se davvero dovesse andare che ne so al celtic al posto di arte a fare titolare esploderà il suo prezzo insomma mi immagino allora dopo il nostro buon will dennis passiamo alla difesa e passiamo a greg taylor difensore titolarissimo del celtic con un l 15 favoloso a 44 le 5 47 quindi leggermente in aumento lo andiamo a vedere eccolo qua non sta rendendo tantissimo ma il celtic gioca con livingstone quindi ci aspettiamo che arrivi una clean sheet vediamo il prezzo della limited ultima vendita a 11 e 15 ma il floor a 8 e 72 quindi molto più basso mentre per quanto riguarda la rara ultima vendita a 64 e 75 il floor della rara è un pochino più alto ma questo ragazzi è titolare della scuola più forte di scozia e non costa praticamente niente in proporzione ai suoi compagni di squadra io ci farei veramente un pensierino sempre in difesa rimaniamo sul kilmarnock del grande luis maio che ha veramente una foto favolosa lo andiamo a vedere il buon luis il kilmarnock sta andando benissimo vediamoci le l 15 eccolo qua per niente male giocatore da soglia vedete comunque sempre sempre leggermente in aumento giocano con il saint johnston vedete l'opposite del del buon sorale data è decisamente elevato il suo prezzo è assolutamente contenuto 3 ore e 44 qualcuno sarebbe pagato 9 euro si capisce perché ma insomma 3 ore e 44 la limited 4 ore 71 di floor direi ottimo mentre la rara eccola qua la rara 39 euro l'ultima vendita 54 e 28 in floor vedete l'ho comprata anch'io qualche settimana fa a 31 euro e 58 perché credo molto nel kilmarnock passiamo al centrocampo e qui suggerisco un compagno di squadra di alivurale sempre del siva sport che ricordiamo lo giocano contro l'istalbum sport 61 mica male consigliato insomma da sorale data lo vedete non un fenomeno ultime partite nemmeno benissimo però insomma il prezzo e la partita che ha non è affatto male costa un euro e 62 2 21 62 ultima vendita limite 223 il floor mentre la rara sta a 24 e 93 ultima vendita che qualcuno ci prova perché questa poi è un'asta quindi però insomma secondo me per il futuro vedi mai centrocampo invece in scozia andiamo dal dylan levitt dell'ibernian non sta andando benissimo diciamoci la verità ci aspettavamo molto di più ultima vendita 3 euro ma addirittura viene messa un euro e 23 in floor la limited mentre la rara ultima vendita a 22 euro 22 euro e 94 siamo lì non sta andando bene lo sappiamo però giocano contro giocano contro i rose county gli ips e vedi mai che il ragazzo si riprende dopo l'infortunio e finalmente fa una partita degna del proprio nome lo vedete ma non può andare peggio di così ecco io secondo me lui a questa cifra è un po strano lasciarlo lì ecco probabilmente me ne prenderò una copia anch'io tanto per non appunto non ce l'ho ancora quindi non sto vendendo un mio giocatore ma trovo abbastanza incredibile che stia questa cifra per il valore assoluto del cacciatore ovviamente il livello delle prestazioni per il momento è molto basso non ho messo non abbiamo messo con marec metti kennedy perché non è ancora sicuro che rientri altrimenti anche metti metti kennedy del killman ci starebbe benissimo davanti andiamo con subito scozia con il grande grandissimo martin boy l'attaccante degli ips che appunto giocano contro ross county devo vedere i voti del buon martin le 15 eccolo qua discreto ricordatelo che è titolare della nazionale australiana quindi sono può far comodo nelle qualificazioni asiatiche il prezzo ottimo direi eccolo qua lo vedete ultima vendita 5 27 5 33 in asta quindi insomma in floor scusatemi va bene mentre l'ultima vendita eccolo qua in rara è 75 10 89 10 un pochino di più però vi mettete in causa un attaccante comunque titolare sicuro da soglia è un po più alto probabilmente del dovuto è questa questa cifra però insomma se fate una trattativa se mi mettete in casa e siete contenti altrimenti se volete spendere un pochino di più finché vi entra nel cap c'è sempre lorence shankland lc 15 52 però vedete lc l 5 in grande salita lo vedete shankland è questa roba qua insomma due gol nelle ultime due partite addirittura gol anche nella vittoria degli arts contro il celtic il prezzo è quello di un attaccante che di solito fa molto bene 13 euro e 76 14 95 ovviamente se diceva il 76 è l'ultima vendita 4 12 euro e 95 e il floor della limited e la rara costa costa l'ultimo acquisto a 137 133 il floor però vi mettete in casa un attaccante di alto livello avete visto ci sono anche comunque delle possibilità di fare degli incastri buoni con la scozia con calciatori come che ne so abbiamo visto il buon diran levitt che hanno capped molto bassi quindi non non sia mai che uno si mette un attaccante buono che timbra sempre che ti garantisce il decisivo che magari ti svolta la soglia io suggerisco anche marlos moreno del conian sport siamo in turchia giocano contro il samsung sport vedete un opposite incredibile andiamoci a vedere le ultime 15 partite non benissimissimo è ovviamente vedete anzi direi per niente però questo fa sì che abbia un prezzo vedete ovviamente si è alzato perché la turchia gioca però insomma 5 euro 3 euro 85 in floor direi che va bene la rara sta 57 29 un pochino di più 65 però ecco se devo spendere 65 per lui perché non ne spendo 70 per martin boyle ecco questa è la questione comunque scelta ovviamente che rimane a voi 46 delle 15 strepitoso torniamo di là per le conclusioni se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella così da essere aggiornati sui video che escono dal darione se volete avere ulteriore confronto con ragazzi esperti oltre a me stesso che ripeto sono sempre sempre pronto a rispondere tra l'altro fin dall'inizio da quando ho aperto il gruppo quindi in tempi non sospetti direi e ci sono sul nostro telegram quindi iscrivetevi al telegram vedrete che c'è un clima tranquillo nessuno viene mai perculato insomma quindi venite e vi sarà data risposta a ogni vostro dubbio ricordatevi anche che c'è un patreon che ho io insomma in cui c'è una promo che vale fino alla fine di gennaio per iscrivere abbonarsi costa veramente nulla e troverete tutte le informazioni in esclusiva per l'italia asia oltre a informazioni su scozia e bundesliga detto questo buon sorare a tutte e tutti ciao ciao